Elena Caratto, Brunella Casacci, a Torino, Poirino, Finanza e Marketing al Baldessano Roccati di Carmagnola, Casacci, Cucito, Ricamo, Maglieria, Direi Factotum, titolare e Factotum, Studio all'Università di Torino nella Facoltà di Economia Aziendale, Principalmente con la famiglia, con Renzo Casacci che è socio nell'azienda e che è anche mio marito e che è anche mio cugino. Intensi, lunghi e tosti, sicuramente appassionanti, coinvolgenti, molto impegnativi. Ma noi da sempre, da prima che si parlasse di ecologia, abbiamo avuto la filosofia di riparare il vecchio, di vendere dei prodotti durevoli nel tempo, soprattutto di evitare tutti quei prodotti che inquinano nello smaltimento, costano poco ma sono destinati a durare poco. Personalmente ho sempre approvato i temi ambientali e della sostenibilità sia all'interno della scuola che attraverso corsi o seminari che ci hanno proposto, sia all'interno, per esempio, della società di pallavolo che frequento, in cui cerchiamo di insegnare ai più piccoli temi della sostenibilità e dell'ambiente attraverso, per esempio, la raccolta differenziata. Lontano, ma perché penso che bisogna pensare più al presente, quindi tendo a pormi obiettivi più recenti e divertente, spero. Mi immagino salute permettendo ancora coinvolta per alcuni anni nella ditta, anche perché abbiamo tantissimi clienti con cui stiamo invecchiando, direi quasi siamo invecchiati insieme e quindi spero di poter continuare ancora per un po'. Chiederei un consiglio su come entrare nel mondo del lavoro in un modo un po' più fluido rispetto a come insegna la scuola, perché lo insegna in un modo schematico, al posto che adattarsi o comunque entrare in un modo spontaneo nel mondo del lavoro. ma le direi di appassionarsi molto al proprio lavoro e di studiare sempre, così non peserà mai lavorare.